Buongiorno a tutti ragazzi e forza Juventus, buon martedì e ben ritornati sul mio canale. 19 marzo 2024, inizia la pausa nazionale e inizia con l'espulsione di Acerbi dal gruppo azzurro. Io credo che sia giusto così in attesa di ricostruire esattamente quello che è accaduto, ma non si può passare sopra episodi di questo tipo e anzi bisogna combatterli, bisogna assolutamente combatterli perché non sono i primi, non saranno gli ultimi, ma bisogna cercare di limarli, poi bisogna vedere che cos'è successo esattamente, io penso che sia sempre necessario essere garantisti, però non si può passare sopra queste robe qui, bisogna andare fino in fondo e bisogna veramente scavare per capire cosa è accaduto e nel caso dare una punizione esemplare a Francesco Acerbi. Poi io credo che questa pausa delle nazionali sarà più che altro una discussione extracampo e non solo per quello che è accaduto appunto tra Inter e Napoli, ma anche perché si è parlato di dossier illeciti per quanto riguarda la Juve. Questa è la mia previsione, secondo me questa tematica che era già emersa nelle settimane precedenti è stata tenuta in stand by in attesa dell'inizio della pausa nazionale. Questa è appunto una piccola scommessa che faccio con voi, secondo me adesso si parlerà tantissimo di sta roba qui, io devo essere onesto e sincero con voi, non mi sono ancora documentato sulla questione, perché in questo momento credo che per la Juve sia più importante pensare al campo, perché dobbiamo anche parlare di quella che è la Corsa Champions e assolutamente lo faremo e magari lo faremo anche insieme oggi pomeriggio in live, come ogni martedì qui su YouTube, però credo che sarà anche una discussione in questa pausa nazionale di futuro per quanto riguarda la Juventus. Tanto ragazzi sono arrivate delle conferme da parte dei vari giornalisti, e cioè la Juventus non avrà intenzione di esonerare Massimiliano Allegri in questo momento qui. In questo momento in cui vi sto parlando, al 19 marzo, questa sembra essere l'intenzione della Juventus per quanto filtrato dagli organi di informazione. La Juventus starebbe pensando quindi di potersi comunque qualificare per la prossima Champions League, con la conferma di Allegri per poi rimandare tutti i discorsi al termine della stagione o al limite una volta raggiunto l'obiettivo, e cioè la qualificazione in Champions. Signori, io vi dico la mia, anch'io sono convinto che la Juve si qualificherà alla Champions League al termine di questa stagione. Ne sono convinto anch'io. Però nell'ottimismo di un paio di settimane fa, nel dirvi che c'erano dieci punti di vantaggio sulle altre, si faceva un campionato in cui partivi più dieci, le altre ogni volta che non vincevano ti facevano un favore, vi dicevo anche che sarebbe stato necessario fare almeno quattro punti tra Atalanta e Genova in casa. In casa. Tutti i punti ne hai fatti due. Quelle dietro comunque si sono mosse, non tutte, non sempre, ma hanno giocato, hanno conquistato punti. Poi, lasciamo stare che Fiorentina-Atalanta è stata rinviata, è un grandissimo, un grossissimo, un boccalupo a Gio Barone che sicuramente non se la sta passando bene, sperando che possa risolversi tutto per il meglio. Però questa partita diventerà molto, molto importante, molto probabilmente verrà recuperata a fine campionato, leggevo per via di alcuni discorsi legati ai calendari, dato che sia Fiorentina che Atalanta sono ancora in Europa, chi in Europa League, chi in Conference League. Però è una partita molto importante anche per quanto riguarda il futuro della Juve. E dato che hai fatto due punti sui sei a disposizione, ora inizia il difficile. Intanto perché Igor Tudor è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio e le prime due partite di Igor Tudor sulla panchina della Lazio saranno contro la Juve. Campionato e Coppa Italia. E non venitemi a dire che la Coppa Italia sarà qualcosa di diverso dal campionato e che è quindi più leggero, perché è esattamente il discorso che si faceva l'anno scorso con l'Europa League. La Juventus all'interno di problemi per via della giustizia sportiva, tutto l'extracampo, e dai che l'Europa League è una roba diversa, vedrai che lì ci sarà più voglia di... No. No. Cerchiamo di non prenderci in giro. Sarà la stessa roba. Non è che è il campionato in questo momento, no, no, no. A maggior ragione se Tudor riuscirà a toccare i tasti giusti, le corde giuste, da subentrato in corsa. E Tudor è uno che solitamente con il lavoro ci sa fare. E l'ha dimostrato in questa sua prima parte di carriera. Quindi attenzione, perché le prossime due partite saranno molto toste e saranno con la conferma di Allegri in panchina. E ripeto, per me anche con Allegri in panchina la Juventus riuscirà comunque a qualificarsi per la Champions. Ma sarà dura, eh? Sarà difficile. Quello che mi aspetto ora è una sorta di scenario alla Juventus di Pirlo. Caduta libera, la Juventus gioca non solo contro la Lazio di Tudor, non solo contro la Roma di De Rossi, non solo contro il Bologna di Tiago Motta, il Monza di Palladino, tra l'altro queste sono solo alcune delle partite che mancano, la Fiorentina di Italiano, tutti allenatori comunque emergenti con una certa confidenza, con il lavoro un po' più moderno, chi con alcune caratteristiche, chi con altre, però tutte le nature emergenti abbiano nominato fino adesso. E non giocherà solo contro di loro, giocherà anche contro se stessa. Poi ci sono delle partite un po' più abbordabili, c'è il Cagliari, c'è la Salernitana, d'accordo, però ragazzi, ormai non si può nemmeno più parlare di partite abbordabili per la Juve. Perché se non fai tre punti in casa con il Genoa, con un Genoa già salvo che nulla ha da chiedere se non di limitare i danni all'interno di un pomeriggio di trasferta a Torino, preoccupante, non riesce a battere l'Empoli, non riesce a battere il Rudinese, riesce a battere all'ultimo respiro il Frosino in caduta libera. Cioè ormai la Juventus gioca principalmente contro la Juventus e poi con quegli altri. È una sorta di due contro uno virtuale, quello della Juve di oggi. Quindi per me comunque ci arriveranno, ma a questo punto il rischio di doversi qualificare fino all'ultimo respiro, fino all'ultima giornata, fino all'ultima partita dell'ultimo minuto inizia a essere concreto per quanto mi riguarda. Allegri o non allegri? Perché ormai la classifica si è ribaltata e io non posso sentire che si parla con orgoglio di un terzo posto fino a due mesi fa eri a due punti dalla prima. due punti dalla prima con una voragine dietro. Non si può essere orgogliosi e felici del terzo posto. Quindi Allegri oggi rimane lì. Dentro la Juventus probabilmente hanno fatto delle riflessioni e probabilmente alcuni ritenevano giusto il cambio adesso, alcuni non lo ritenevano giusto. Per me lo era per valorizzare, per responsabilizzare più che altro i calciatori in questo momento qui per togliere la scusa, per togliere il parafulmine, per dire ai ragazzi due mesi da Juventus due mesi da Juventus dove questa narrativa di l'importante arrivare in Champions non esiste. Questa non è solo una narrativa di Allegri, è una narrativa societaria, è una narrativa di proprietà, è una narrativa che non apprezzo, non esiste. Perché poi è oggi, è domani, è ieri, è l'altro ieri si parla di sta roba qua, entra nel cervello e diventiamo questa roba qua. No, alla Juventus non si può ragionare in questo modo, mi dispiace. Non si può ragionare, che non significa che non si può poi arrivare al punto che succede, ragionare dal giorno zero della stagione a dire che l'importante è arrivare in Champions, qualsiasi cosa accada, che se ci arrivi all'ultimo giorno ma poi sei in Champions allora va tutto bene, non è vero, non esiste questa roba, non è vero niente, non è vero niente. perdonatemi ma non è vero niente di questa roba qui. E io vi dico francamente che dell'Allegribis sono più deluso della parte comunicativa che della parte gestionale o dei risultati. Perché poi i risultati possono non arrivare da te. Metti che sbaglia all'acquisto, si fa male al giocatore, vai a sopravvalutare una determinata, non è la squadra fatta per te, non riesci a prendere, si ribellano. Cioè ci possono essere mille variabili, davvero. Ma la parte comunicativa è una roba che viene da te. La maggior ragione è quando sei l'allenatore della Juventus e vai ai microfoni. Perché da grande fan, da grande fan dell'Allegri 1.0 e che ricordava con piacere anche tanti passaggi e tante interviste dell'Allegri 1.0, dell'Allegri 2.0 mi tocca ricordare. No, si è disonesti intellettualmente se si parla di Juventus che fallisce uscendo dalla Champions col Villareal. Mi pare Marco Conterio che gli dice mister ma questo fallimento no, è disonestà intellettuale parlare di fallimento, la Juve che esce col Villareal è un fallimento. Stop, punto. Stop, punto. E non lo dico da oggi, datevi a ripescare quel video, anche se al termine della stagione del primo anno dell'Allegri 1.0 avrei confermato Allegri per continuità però poi volevo risultati e questi risultati non stanno arrivando anche lì dicevo no, non esiste che si parla di disonestà intellettuale se si viene eliminati dal Villareal tra zero in casa agli ottavi di Champions. Non esiste, non può esistere. All'intervista con Sconcerti tra Monza e Maccabi eh vabbè ma io avevo in mente la Juve virtuale questa è la Juve reale ben diversa mi mancano tre giocatori Chiesa, Pogba, Di Maria senza questi l'unico che poi non si è avuto a disposizione è stato Pogba ma sia con Chiesa che con Di Maria non è cambiato quindi probabilmente è stato sbagliato proprio tutto l'approccio in queste annate qua al se volevo vincere andavo da un'altra parte ma stiamo scherzando che la Juventus si possa dire una roba del genere stiamo scherzando dopo che sono stati fatti anche degli investimenti perché Vlaovic ha 80 milioni non l'hanno avuto in tanti nella storia della Juventus un numero 9 titolare a 80 milioni a gennaio perché non ci si stava qualificando per la Champions non è accaduto tante volte a maggior ragione in un momento in cui i soldi erano da centellinare quindi non potete dirmi eh ma non vuol dire niente no vuol dire vuol dire che l'azienda si è messa una mano sul cuore uno sul portafoglio e ha detto dobbiamo cercare di fare qualcosa al punto sul Bologna guadagnato che è quella cosa che mi ha fatto anche un po' arrabbiare da cui è nata quella clip che poi è diventata virale nei giorni scorsi no mister non si può ragionare sul punto guadagnato sul Bologna mi dispiace siamo alla Juventus siamo alla Juventus fino a ieri o l'altro ieri domenica quando lei non è un allenatore e quindi non può non può capire io capisco lei non capisce ma ragazzi ma stiamo scherzando e andiamo a dare degli stupidi ai giornalisti che fa le domande perché fa le domande che non ci piacciono bisogna sempre essere accomodanti bisogna sempre essere col sorrisone dire bravo Max dai che sei terzo che tanto l'importante è arrivare in Champions che se ne frega si è fatto 0-0 col Genoa ma fa lo stesso l'importante è che poi arrivi in Champions bravo dai sei il più bravo continua così grande numero uno cioè questo vogliamo davvero questo è questo l'obiettivo che stiamo ricercando e poi sicuramente ne ho lasciate indietro tante altre ma queste sono tutte uscite che vanno nella direzione una e una sola direzione cercare di innalzare quello che è stato il lavoro il rendimento di questo Allegribis no si passa soltanto per ridicoli a cercare di difendere questo operato non si può difendere questo operato l'operato si difende con i risultati e per la Juventus non è un risultato arrivare in Champions è la banalità è la banalità deve far clamore la Juventus che non arriva in Champions non la Juventus che arriva in Champions non può essere l'argomento di discussione della Juventus che arriva in Champions a maggior ragione in una stagione in cui se ne qualificano 4 forse 5 non può esistere questa roba qui non può come non può esistere una Juventus che in 8 partite fa una vittoria all'ultimo secondo in casa per 3 a 2 su mischia con un difensore centrale contro una squadra che sta retrocedendo questa roba non può esistere e non può essere giustificata non può essere giustificabile la Juventus ha deciso di andare avanti ancora perché avrà le sue ragioni mancano due mesi mancano due mesi e questi due mesi devono essere da Juventus poi io dico la verità penso che Allegri abbia capito che l'anno prossimo non allenarà la Juventus penso che questa cosa sia ormai banale scontata mi piacerebbe anche sapere con che mood lui si mette lì a preparare le partite o andare a fare le partite o le interviste post partita sapendo che non gli hanno ancora detto niente e perché non gli dicano niente perché gli vogliono fare una festa sorpresa vogliono fargli una grande grossissima sorpresa in cui Giunto gli esce da una torta e dice Max te l'avevamo quasi fatto credere ma no ma certo che ti vogliamo sei stato così bravo e perché non gli dica niente perché vogliono arrivare a conquistare questo traguardo la Champions League in maniera matematica ufficiale e poi dirgli sai cosa questo questo e quest'altro però di questo passo traguardo Champions rischiamo di averlo davvero tra due mesi e quindi questo è un po' il ragionamento che sto facendo d'ora in avanti è un forza Juve costante continuo non allegri non i calciatori non i dirigenti è forza Juve forza Juve inteso come colori inteso come storia inteso come squadra perché ad oggi i dirigenti non stanno facendo scelte da Juve chi se ne frega che non è da Juve esonerare a stagione in corso c'è un campo che urla e grida vendetta non è da giocatori Juve andare in ferie a febbraio a inizio febbraio non esiste non è da allenatore Juve fare certe dichiarazioni non è una guerra agli allenatori ai giocatori o ai dirigenti non è una guerra è un voler valorezzare invece quello che è la Juventus perché gli allenatori i dirigenti i calciatori passano ma la Juventus resta fra 10-15 anni di queste tesserate Juve non ci sarà più nessuno ma la Juventus ci sarà ancora e quindi forza Juventus diventa il mio nuovo inno da qui al termine della stagione e ogni video si aprirà con un forza Juve e ogni video si chiuderà con un forza Juve